Grazie, ci sono domande per i relatori generali che abbiamo la possibilità di farglielo con di me. Ecco, adesso passerà il mio collega con il microfono, perché così sarebbe la registrazione. Riccardo alla Fornazzi, che è uno dei componenti del team che è sempre il suo onore e l'onore di sviluppare le attività di centramento per quanto riguarda il progetto di ASCO. Siccome siamo in una sedia nella quale tra poco ci sarà il convegno dell'Anafonda, mentre sarebbe sapere se è l'interno della sala, c'è questo costruttore di mattino di impianti per la fonderia, perché la domanda la vorrei rivolgere a questa persona, a questo rapprogettante, in ogni caso in maniera indiretta, che è rivolta anche al signor Doshio della Camozza, la sensibilità da parte del costruttore di macchine di impianti, in questo caso la fonderia, come abbiamo detto, relativamente ad alcune cose che sono state segnalate dal Dottor Doshio. Cioè ad esempio la disponibilità e la scelta di valvole più piccole, normalmente montate sull'attuatore, piuttosto che invece come si usava, si usa ancora di cassette montane dall'attuatore dove montare valvole più grandi. Nella mia esperienza di costruttore anche di macchine di impianti, non di fonderia, quindi non mi faccio mi dico in questo momento, non credo in particolare in questo momento, ma per altri settori spesso si è andato ad utilizzare cassette molto montane dagli attuatori, quindi con i vecchi tubicini che sono andati molto montani, non è notevole di inversione. Domanda direttamente al Dottor Doshio, le nuove generazioni di valvole, come l'ultima che è stata messa, è stata vista complessa tra le più tre vie, piuttosto che le cinque vie o altre, tengono conto anche, come pure quelle che vorremmo montare sugli attuatori, in più ambienti particolarmente difficili, come ad esempio sono tipici quelli di potteria. Sì, il problema della miniaturizzazione è quello della qualità dell'aria, quindi avere prodotto valvole di dimensioni grosse, tornando all'interno della valvole ci sono dei dispositivi di azionamento, delle superfici molto grandi, quindi se anche c'è dentro nella spalla, a parte il problema mobile della valvole, ci sono delle impurità con rispondere al sanamento, di sfancine di forno molto grandi, queste impurità che vengono rotte, la valvole si muovono più a meno. Ovviamente se dobbiamo avere delle caratteristiche di un certo tipo, dobbiamo prepararci a dare l'aria, in questo caso, trattata in un certo modo, quindi sicuramente le valvole sono valvole che non hanno problemi di funzionamento, però l'aria deve essere a posto, sicuramente quello che dà più fastidio è l'aria all'interno dell'aria, che non è tanto, perché per me sono i passi termini, chiaramente in un futuro, ma è sicuramente la contaminazione che può dare, appunto, la macchina che c'è nella maria complessa, che non è, diciamo, gradita, per troppo la interneumatica, quindi di valvole, piuttosto che scelta, eccetera, eccetera. Quindi di sicuro, togliere l'olio. Quando abbiamo tolto l'olio, grossi problemi non ce ne sono. Infatti su queste valvole qui si ha, insomma, più un po' di trattamento nel tecnico, c'è un canale di alimentazione delle parti più piccole, dei pilottini, le parti più sensibili, è un canale di intervento, nel quale ci si può mettere un filtrino disolatore per proprio, appunto, rendere tranquilla quella zona per garantire il funzionamento del prodotto. Come opportune le due raffruggimenti, anche valvole e piccoline possono essere usate in contesti, diciamo, più classi. Volevo chiedere un commento sulla scheda tecnica. La scheda tecnica è per la presentazione dei progetti di titoli pietrici di energetica, appunto, sull'e-commerce. Queste schede qui arrivano da una serie di dati di tipo tecnico-scientifico, che però credo che siano stati criticati anche a livello accademico proprio dalla professoressa. di cui, se magari ci vuole dire qualche cosa in merito a come è stata costruita questa scheda tecnica, è chiaramente a vantaggio della semplificazione da un lato, però dall'altro non riesce a, diciamo, ad ottenere diversi risultati che si dovrebbero ottenere. Dunque, io appunto premetto che qualora la autorità riesce a tirare fuori rischi ai tecnici di titoli pietrici di energetica è una buona cosa, perché teoricamente lo scopo è quello di agevolare il lavoro delle ESCO, delle aziende di distribuzione che hanno gli OLE. Sicuramente questa scheda è una scheda che è nata un po' male, è una scheda che, volendo semplificare tante cose, ha lasciato indietro qualche gamba. Nella fattispecie, io chiedo qui, forse, sarebbe che poi commenti più puntuali possano essere fatti dalle aziende, diciamo, dalle ESCO, che invece hanno prodotto questi progetti. In generale, come diceva l'ingegnere Bartucci, appunto qui esatto, le schede tecniche, insomma, proprio perché sono veloci, tendono a valorizzare in modo, diciamo, inferiore il risparmio che effettivamente un intervento, come ad esempio per l'area compressa, cioè quello sulle macchine a velocità variabile, può effettivamente realizzare all'interno dell'azienda in cui viene impiegato. Questo è un dubbio e sicuramente i parametri con cui attualmente l'autorità si confronta adesso, l'autorità aumenta sui bracci tecnici, che sono l'Enea e l'RSE, che è una ricerca sul sistema elettrico, l'ex CEPI, che sono responsabili della valutazione dei progetti a costruttivo, è sicuramente, diciamo, sono dei parametri che sono veramente, diciamo, restrittivi, perché nascono in un contesto che non è stato attualizzato rispetto alla, diciamo, la modalità con cui l'area nei pianti industriali viene utilizzata. Quindi, e anche i parametri di riferimento, qui non abbiamo mai parlato di VELTA, ma, diciamo, l'attenzione che l'autorità pone nella valutazione dei progetti, io parlo di autorità, anche se poi sono i bracci tecnici, però in realtà, diciamo, l'autorità, l'energia elettrica, il gas e l'acqua, che è responsabile, diciamo, di questi, diciamo, della valutizzazione e dell'attribuzione dei titoli, poi, appunto, con l'Eneo, l'RSE, diciamo, non si sono tenuti conto di tanti parametri di funzionamento delle macchine all'interno dei processi. Adesso vi posso dire, anticipo, magari per giusto questo come spunto, col 18 dicembre abbiamo intenzione di organizzare a Pavia una giornata in cui verrà invitata l'autorità, l'RSE, l'Enea e le aziende, le ESCO, che hanno operato in questo campo con i progetti a consumtivo fondamentalmente fino adesso, per aprire un dibattito in modo da raccontarci che cos'è che non funziona nella scheda. Non che l'autorità non lo sa, che l'autorità lo sa, nel passato ha forse cercato anche qualche aiuto, attualmente non ha ancora finalizzato tutti gli aiuti che le sono stati dati per poter modificare la scheda in modo che venga utilizzata di più rispetto all'attuale. L'attuale, da quello che so io, le ESCO, vanno ancora verso il progetto consultivo che, come dicevano, sono veramente delle schede bianche, nel senso uno può mettere dentro davvero la razionalizzazione dell'uso dell'aria, a partire dalla domanda risalire fino all'uso dell'energia elettrica. Il problema è che sono onerose in termini di monitoraggio, quindi va benissimo, ci sono aziende che sono disposte a pensare di avere il proprio processo sempre monitorato, ma è in dubbio che un monitoraggio è estremamente costoso. Quindi sicuramente andare verso la soluzione di una scheda tecnica, tipo quella che è stata proposta, ma magari con qualche aggiustamento aumenterebbe moltissimo il giusto di questa scheda da parte degli utenti finali e non ci sono moltissime cose da fare. Quindi il problema è iniziare magari in modo più coinvolgente possibile a tirar fuori l'autorità e confrontarsi con i problemi che questa scheda attualmente sta dando, tra cui quelli delle baseline, cioè ritenere delle baseline che non sono effettivamente applicabili sempre, lo sono solo ai casi più estremi. Come riferimento la baseline è praticamente il riferimento che si prende a partire dal quale viene valutato un risparmio. Quindi chi ha magari un intervento proposto su una situazione che è molto, diciamo, molto malconcia, in realtà a questo tipo di intervento non viene riconosciuto tutto il risparmio che effettivamente l'intervento comporta. Però i tagli che attualmente vengono fatti proprio dalla scheda sono davvero disincentivanti. Chiaramente devi prendere in considerazione quello che è lo stato dell'arte perché la finalità della norma è quella di dire io voglio costringere l'industria a fare dell'efficienza energetica. Quindi chiaramente devo valutare quello che è uno standard attuale delle varie attività o dei vari settori per premiare quelli che riescono a riefficientare. Per cui al di là di quelli che sono i numeri e i dati specifici relativi a un singolo intervento, quindi di miglioramento e di razionalizzazione, bisogna comunque prendere in considerazione quello che è uno standard medio rispetto a quell'attività lì. Cioè io non posso pensare di girare con la balilla e volere dei premi perché oggi compro una macchina nuova, ma il risparmio della mia macchina nuova viene valutato rispetto a quello che è un benchmark oggi di standard, diciamo, di efficienza delle autovetture medie. Per questo molto spesso siamo contattati da molti operatori che istruiscono queste pratiche per valutare quelli che sono i benchmark di settore rispetto, che ne so, ai consumi specifici della fase di diffusione del forno X piuttosto del forno Y o cose di questo genere. Per cui io invito tutti, quando noi come associazione chiediamo alle aziende dei dati, li chiediamo anche in relazione a un'utilità e una ricaduta che può avere tutto il settore e le singole imprese in queste situazioni. Per cui se non esiste il benchmark legato al consumo specifico di aree compresse per ottenere il prodotto, diciamo, nel settore della fonderia, è chiaro che noi chiediamo informazioni dei nostri associati per avere una situazione che ci consente di dire che questo è lo stato dell'arte rispetto al quale poi dopo possono essere valutati gli efficientamenti energetici. Per cui un invito a tutti è quando noi vi chiediamo qualche cosa, al di là della rottura di scatole, di rispondere. Riteniamo che tutti noi possiamo avere una ricaduta positiva nel contribuire a costruire questi dati che poi ci ritornano in termini, in questo caso, di percentuali di razionalizzazione e quindi possono essere monetizzati. Grazie. Nell'intervento prima avevo mostrato il nostro stato di professori che è formato da un professore che c'è un'attività di 80 agili saliani, Alberto, e poi un professore di edificio. Stiamo studiando, adesso dobbiamo provare, e non dobbiamo provare tutto il barco di professori e cerchiamo una nuova soluzione. Sicuramente metteremo un professore giro variabile, ovviamente. Nell'ambito dei servizi familiari, sostituire una macchina a giro variabile, avendo già una macchina di giro variabile, il fatto che ci parte i tempi nella prima delle serie che siamo penalizzati o no? Cioè, chi vuole lo dire? Non si è lungo, ma è ottimo, ma è finito. Cioè... Allora, chi è un'attività? Il microfono, mi sento che, andando a un progetto costruttivo, se partiamo già da un buon riferimento, la differenza, i vantaggi in più, l'efficienza in più, come faccio a dimostrare l'ordineo? O contro le due levi confessori, la rupanna, 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 che... Io ho detto quello che evidenziava proprio uno dei problemi che ci ha permette il meccanismo delle semplicità di bianche, che se parlando sempre che qualcuno è già più efficiente delle vende di mercato, tutto quello che fa in più deve essere in più verso se stesso, perché la razza è molto semplice, o ci si paragonano, i margini che realmente si riducono, Quello su cui ci stiamo muovendo da vario tempo con RSE e DNA, comunque far presente che in questa maniera le aziende che ci sono già stati del project, però lo sapete, sono penalizzate, chiaramente. Credo che, allora, comunque devono essere pubblicate ulteriori linee in guida, si spera che vengano recepite anche queste situazioni, che sono state poste da tutti gli operatori, il settore, e parzialmente anche recepite. Questo mi permette anche di legarmi a quello che si diceva prima. Direi che la scheda tecnica comunque è abbastanza penalizzante. Il problema cos'è? È che è stata impostata, secondo noi, in una maniera letteralmente sbagliata, ossia per saper minimizzare le misure sono stati utilizzati nel calcolo dei parametri fissi, come la potenza luminale. Chiaramente, se si riferisce alla potenza luminale e non a quanto si consuma, e non a quanto si consuma, non permette, è chiaro che più sono stretto dal punto di vista del monitoraggio, più devo fare delle semplificazioni. Queste semplificazioni, in realtà, non è che portano una sottostima pura, perché se imparano solamente uscire le schede tecniche e estremessi in un compressore, a zero di variabili, di una potenza scorpositata, quella scheda generale, un numero di viso, chiaramente nessuno lo fa, perché nessuno andrà mai in un compressore talmente sovrastimato. È proprio la semplificazione di visita in tutta scheda che può portare delle... Non è questo, non è quello che diceva prima, la razza di poter, diciamo, vedere in cento d'altro, ma anche un intervento successivo ad un altro, sempre sullo stesso intervenimento, e quindi su cui ci sta discutendo in un'ingese da un bel po'. Grazie, buongiorno a tutti, io mi presento, mi chiamo Graziano D'Antio, sono il direttore commerciale di Ingersone. Ringrazio tutti per le loro esposizioni e lo stile e volevo soffermarmi un attimino sul punto e la prospettiva da parte del costruttore. L'ingegnere Ferrari, che fa parte del nostro team di valutazione energetica degli impianti, è stato in questi anni, direi dieci anni, uno dei più grandi collaboratori di tutto il tedesco, quasi tutte, che hanno fatto e eseguito dei progetti essenziali, non solo con le nostre macchine. Abbiamo condiviso con lui e con i nostri clienti quello che è, dal punto di vista del costruttore, una cultura che era quella, diciamo, pochi anni fa, di vendere del ferro con un motore elettrico, che pompava dell'aria dentro i tubi e l'abbiamo trasformato in una filosofia di soluzioni. Filosofia di soluzioni, partendo veramente dalla qualità del prodotto, mi ricollego a quanto diceva il produttore prima, che anni fa ha scelto una tecnologia innovativa di 15 anni fa, o di 20 anni fa, che era una macchina di stadio altamente efficiente, però chiaramente a pieno carico. Abbiamo aggiunto negli anni una tecnologia con inverter, con un motore a magneti in grido e permanenti, che non ha in nessuna condizione di basso utilizzo la marcia a vuoto per ottimizzare e chiudere ancora gli spazi all'interno di quella che era un'area di, diciamo così, di inefficienza di miglioramento. Il costruttore, in questo caso noi, che intersorrende, ha la visione di sedersi, come se gli sto di fianco, a voi, a voi tutti, quindi mi prendo anche un impegno a supportare, a fare la consulenza, sia all'ESCO che chiaramente a Pioggia, a tutti gli associati, per poter trovare con voi la soluzione. Però la soluzione va trovata, va cercata, va verificata, va costruita su un'analisi moderata, realistica di quella che è la situazione in calco. Quindi, noi, insieme a voi, siamo in grado di fotografare e di costruire su questa fotografia lo scenario del risparmio energetico delle vostre. Volevo dire questo. Grazie. Grazie, grazie. Visto che abbiamo raggiunto l'ora in quale ci aspetta il buffet, molto sinteticamente e per concludere vorrei dire che oggi abbiamo capito che l'area non costa nulla, ma l'area con pressa è molto cara e, vorrei lanciarmi a quello che avevo detto all'inizio, in questo caso risparmiare e razionalizzare si può e si deve. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie. Se lei punta solo alla mera sostituzione del compressore, nel suo caso non otterrà nessun beneficio. Nel suo caso invece, però, sta rifacendo completamente il sistema di istituzione, magari spostando dei compressori, allora io mi muoverai in maniera diversa andando a indicare che letta un'intervento di efficienza completa, non mirata da solo con questo. Ok, però siccome la macchina principale è già efficiente rispetto al... Ingegnera, scusi, mi chiamo la nostra che è la registrazione. Ah, scusate. È vero, però siccome la macchina principale è in termini del servizio di potenza è già efficiente, perché nella macchina c'è di variabili, mi si riducono sempre più margini. Quindi non so se alla fine il costo dello studio, del progetto consultivo, ne vale la pena, ci sono margini. Quella è da quanto? Eh, eh. Quella è da quanto? Per ieri, oltre, anche, non so, forse sembra al limite della non convenienza. Quello può essere. Le fonderie sono locali su questi targhi, però non è che ci sono fonderie che hanno dei bilantino che hanno installati e noi ne abbiamo 250, 260, più o meno quello che i target siano questi. Cioè, se lei però ha due sali compressori, le porta a uno? Però se lei ha due sali compressori e le porta a uno, magari ragiona anche sulla distribuzione, a quel punto va a vedere quanti sono efficienti gli utilizzi, l'analisi la farei in quel senso, poi magari non ha vantaggio lo stesso, ma la mera sostituzione di un compressore giro invertizzato con un altro è evidente che il sistema non lo premia. Detto questo, sulle schede, torno al discorso di prima, noi ci siamo trovati che una scheda con un compressore ben dimensionato e su un ciclo che lavora 24 ore al giorno con il ceramico dove siamo piuttosto presenti, il risultato è negativo. Quindi non è che risparmiamo qualcosa, abbiamo messo un compressore giri variabili e abbiamo un numero di titoli di efficienza energetica negativi, quindi questo va a dimostrare che la scheda è assolutamente inutilizzabile se non in casi particolari, ma a quel punto uno deve fare un progetto a consuntivo per dimostrare che la scheda non è utilizzabile. Siamo al di neve. Grazie. Bene.